Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel disordine usuale della mia libreria. Tranquilli, non sono impazzito, questa ne è la maglietta da razzie, bensì è la maglietta dei Titans, una squadra di football universitario, di football americano, di un college statunitense, quindi il sottoscritto non è impazzito, a razzie, a razzie mai, vabbè, scusate, ok. Allora, signori, finalmente dopo due anni da che ho aperto questo canale, mi rendo conto di avere trascurato un'arma fondamentale dell'arsenale italiano durante la seconda guerra mondiale, ovvero sia il cosiddetto siluro a lenta corsa, l'LSC, detto anche il maiale. La fonte è il secondo volume di la seconda guerra mondiale di Arrigo Petacco, con la scheda tecnica dello SLC, eccolo qui, eccolo qui, rappresentato in questo disegno con un operatore, con uno degli operatori della decima flottiglia mass, eccolo qui. Il siluro a lenta corsa, una delle armi più efficaci dell'arsenale italiano, tant'è che gli inglesi ce la copiarono l'idea con i loro chariot, ovvero sia la copia britannica, se vogliamo, del maiale, dello SLC. Che cosa c'è da dire a proposito dello SLC? Allora, è più o meno il concetto del mezzo d'assalto, che va inteso come arma dalle caratteristiche più o meno particolari, ma comunque atta ad arrecare al nemico il maggior danno possibile con le minori energie e la minore spesa impiegabili. La guerra costa, signori, costa, costa la guerra, costa cara, cari signori. Allora, dicevo, questa non è sicuramente un'invenzione dell'età moderna. Nelle antiche marinerie si impiegavano, quando ancora non esistevano né motori né esplosivi, ordigni come per esempio le barche a vele cariche di zolfo e di pece, i cosiddetti brulotti lanciati in fiamme senza equipaggio contro la flotta avversaria, vulnerabilissima a tale offesa, in quanto interamente costruita in buon vecchio legno stagionato. Ebbene sì, con un semplice confronto non dovrebbe essere difficile immaginare queste imbarcazioni come antenate dei motoscafi turismo, i famosi barchini di suda. Ma se nella storia navale si scopre un uso abbastanza frequente di tali ordigni, è indubbio che essi venivano impiegati alla stregua di una qualsiasi arma, cioè altro non erano che un mezzo materiale per arrecare danno e basta. Quello che è frutto del nostro secolo è invece la nascita dell'idea del mezzo di assalto come mezzo insidioso, l'insidia, il nascondersi, l'azione di nascosto. Un mezzo capace di svolgere la sua azione bellica basandosi sull'efficacia del risultato, sul principio di economia delle forze impiegate, ma tendente a colpire il nemico, oltre che nei mezzi, anche nel morale. Infatti, ed è qui la grande trovata dei cosiddetti mezzi insidiosi, dicevo, infatti il pericolo di una cannonata dell'avversario è, in tempo di guerra, logico e viene accettato dal marinaio. Già il pericolo del siluro di un sommergibile, invece, mantiene i nervi tesi perché non si sa quando e da dove può venire, ma almeno il sommergibile attacca in mare durante la navigazione e in fondo ci si può difendere da lui scoprendolo e attaccandolo. Fin qui direi poco di discutibile. Quello che invece è peggio è l'idea che la nave possa saltare in aria da un momento all'altro senza preavviso né causa apparente, tanto in porto che in navigazione, nonostante sorveglianze e controlli. Sì, perché i mezzi insidiosi, l'attacco, le incursioni delle forze speciali, nascoste, mimetizzate, celate e quant'altro così, minavano il morale dei marinai in porto perché non erano sicuri a casa loro. Chiaro? Allora, inoltre, proprio per questi controlli bisogna disporre di un numeroso personale molto specializzato che sarebbe magari più utile impiegare altrove. Palombari, signori, costano anche quelli? Diciamo. Basti pensare che dopo le prime incursioni dei mezzi d'assalto italiani contro Gibilterra e Alessandria, in ognuno di questi porti era stato predisposto un servizio di vigilanza che prevedeva, oltre alle difese passive, cioè le reti di protezione, l'uso di sentinelle in banchina, sulle navi, all'imboccatura del porto e su dei motoscafi in continuo movimento che lasciavano chiedere in acqua ogni tanti minuti piccole cariche di esplosivo. Perché? Perché non potevano stare tranquilli. Chiaro? Bisogna proteggersi dalle incursioni degli specialisti nemici. Nonostante questo, i nostri incursori inquadrati nei ranghi della decima flottiglia MAS a partire dal 15 marzo 1941 riuscirono ugualmente a portare la loro offesa nel cuore dei porti avversari, tanto che l'8 settembre 1943 questo pugno di uomini poteva vantare al proprio attivo 5 navi da guerra e 27 mercantili per un totale di 264.792 tonnellate affondate. Insomma mica male per un pugno di uomini per quanto iper specializzati e iper addestrati. Ma adesso parliamo un attimo però dello SLC, il più iconico, il più famoso, il più celebrato dei mezzi insidiosi della regia marina italiana. Ok? Allora, 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 il maiale era, come dire, gli incursori erano dotati di una normale combinazione di lana da palombaro al di sopra della quale indossavano una guaina di tessuto gommato detta vestito belloni dal nome del suo inventore. Ai piedi portavano appositi calzari e solo testa e mani erano esposte all'acqua. Il respiratore era un apparecchio a ossigeno con filtro depuratore di calci sodata che garantiva un'autonomia di ben sei ore. La maschera era un facciale anatomico con lenti indipendenti e boccaglio incorporato. Ogni uomo era dotato inoltre di una bussola da polso adeguatamente schermata perché non risentisse della massa magnetica del respiratore e del maiale e di un orologio fosforescente. I famosi Luminor della Panerai che sono tuttora fenomenali orologi. Vi dico la verità, io sono andato tanti anni fa a Firenze, sono passato davanti al negozietto della Panerai in centro Firenze, sono entrato, ho parlato con il gentilissimo addetto alle vendite e ho fatto due chiacchiere così potendo guardare di persona quei meravigliosi orologi. Il Luminor della Panerai, un autentico capolavoro dell'arte 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 orologiaia. Veramente il Luminor della Panerai è qualche cosa di splendido, siamo sinceri. Peccato che mo' posso permettere se qualcuno di voi avesse voglia di organizzare una colletta per il mio compleanno e comprarmi il Luminor io ne sarei felice ma non chiedo troppo. Vabbè, non ne parliamo. Allora, dicevo, allora, scusate, l'orologio fosforescente, il Luminor della Panerai. Allora, il siluro lenta corsa, che era il vero nome del maiale, non era altro che un siluro da 533 millimetri al quale erano state apportate alcune modifiche. Il motore, che consente ad un normale siluro di raggiungere alte velocità, era stato sostituito da uno molto più lento, alimentato da una batteria che forniva una tensione complessiva di 60 volt. Un reo stato consentiva di regolare la velocità che raggiungeva al massimo i 5 chilometri orari. Due casse a setto a prora e a poppa permettevano, previo allagamento, di portare il mezzo alla quota desiderata, che in teoria non avrebbe dovuto superare i 30 metri. I due operatori, come si vede, eccolo qua, sedevano a cavalcioni del siluro, eccolo qui, reggendosi ad opportune strutture, come ben si nota dal disegno. I comandi erano avanti a disposizione del pilota. Alla prua stava la testata bellica, lunga 1,80 metri e contenente 300 kg di esplosivo, che una volta staccata sarebbe rimasta appesa sotto la chiglia della nave prescelta, con le spolette a tempo in moto, mentre i due operatori avrebbero cercato di mettersi in salvo utilizzando, se possibile, la sezione motrice del maiale o altrimenti cercando rifugio a terra. Allora, il maiale, eccolo qui, eccolo qui di nuovo, era lungo 6,70 metri, aveva un diametro di 533 mm, perché era un normale siluro modificato per essere portato da uomini, aveva una velocità massima, come ho già detto, di 5 km orari, un'autonomia di 20 km, circa, una profondità massima teorica di 30 metri, due uomini di equipaggio e un carico bellico, ripeto, di 300 kg di esplosivo. Allora, il siluro lenta corsa, ripeto di nuovo, eccovelo qua, avrebbe dovuto essere sostituito dal siluro San Bartolomeo SSB, migliorato, potenziato, reso più affidabile, in cui erano stati eliminati alcuni difetti della prima serie del maiale. Ma ahimè, lo SSB che prendeva il nome dal silurificio San Bartolomeo di La Spezia, non venne mai immesso in servizio, perché sopraggiunse l'armistizio, gli esemplari, i prototipi prodotti di questo SLC potenziato vennero distrutti e non se ne fece più nulla. Che vi posso dire, signori? I siluri a lenta corsa, i maiali della regia marina, i maiali della decima mass, furono indubbiamente i mezzi italiani che più danni causarono alla Royal Navy. Danni ingenti, danni importanti, ma i successi in dubbi degli incursori della decima mass non furono mai sfruttati a fondo. Vuoi per l'abilità degli inglesi che, quando la Queen Elizabeth e la Valiant si adagiarono sul fondale del porto di Alessandria, continuarono a fare come se nulla fosse l'alza bandiera con tanto di banda per ingannare la ricognizione italo-tedesca. Inoltre c'è anche da dire una cosa, i successi dei nostri incursori furono indubbiamente grandi, furono indubbiamente delle incursioni come dire esemplari per riuscita e per risultati, sia quelle con i siluri in lenta corsa, sia quelle con i barchini esplosivi. Ma, c'è un ma, non furono mai sfruttate a dovere. Perché? Perché, nonostante la catastrofica perdita di due corazzate in porto ad Alessandria, la Royal Navy non smise mai di uscire per mare. Noi altri, purtroppo, dopo le mazzate prese a Taranto, a Gaudo e Matapan e in altre occasioni, e le nostre navi maggiori, la nostra flotta da la guerra, diciamo, che trovò sempre più difficile uscire. Basti vedere la battaglia di mezzo agosto, dove, nonostante le pressioni di Iachino, la flotta italiana, le unità maggiori della fronte italiana, non misero il naso fuori dai porti. Nonostante, qualche mese prima, durante la battaglia di mezzo giugno, la nostra flotta qualche cosa era riuscita a combinare. Ma torniamo un attimo al maiale. Insomma, un mezzo che ha fatto epoca, un mezzo che è stato ampiamente studiato, ampiamente valutato, ampiamente anche copiato da tutti gli altri belligeranti della Seconda Guerra Mondiale. Ripeto, gli inglesi non si vergognano minimamente di copiarli praticamente pari pari, usare uno dei loro siluri per costruire la versione inglese del maiale, denominata Chariot, e la usarono anche, per esempio, contro la Tirpitz. Le incursioni dei mini sommergibili e degli incursori sui Chariot contro la Tirpitz, le incursioni contro i porti francesi, fatte dagli inglesi che avevano imparato la lezione impartita dagli italiani ad Alessandria nel 1941. Insomma, signori, il Siluro ha lenta corsa. Indubbiamente uno dei migliori sistemi d'arma italiani della Seconda Guerra Mondiale. Un mezzo che l'unica arma, veramente, con cui la nostra regia marina riuscì a infliggere forti perdite al nemico. Un mezzo, il Siluro lenta corsa, che ha fatto epoca e scuola, tant'è che tuttora, per esempio, i nevi sil americani usano qualche cosa di simile, anche se naturalmente più veloce, anche se ovviamente con una filosofia operativa diversa. Insomma, Siluro ha lenta corsa, detto anche maiale. Ripeto, una delle migliori armi italiane della Seconda Guerra Mondiale. Un'arma che ha fatto molto male agli inglesi, un'arma che ha fatto scuola, perché ce l'hanno copiata, pari pari, tutto qui. Quindi, cari signori, come sempre, aspetto i vostri commenti, aspetto le vostre aggiunte, aspetto le vostre correzioni, fatemi sapere, come sempre, i vostri pareri, fatemi sapere che cosa ne pensate. Come sempre, arrivederci al mio prossimo video e soprattutto, ciao!